Salve amici e bentornati sul canale, io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione grandissimo. Bentornati sul mio canale YouTube, Maria Chiara De Battistis, facciamo un salto in libreria. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Allora, prima di iniziare la nostra recensione singola, io la chiamerei, un po' di aggiornamenti. Allora, intanto oggi parleremo di L'invenzione di noi due, di Matteo Bussola. E vi aggiorno un po', come mai faccio una recensione singola, che non sono solita farle qui sul canale. Allora, oggi parliamo di questo libro perché con Monia, che saluto tantissimo Hobbit di Biblioteca, abbiamo deciso di leggerlo insieme. Quindi abbiamo dato il via a questa collaborazione e io l'ho letto in un paio di settimane, ma si legge velocemente. Io ci ho messo un po' più di tempo perché l'ho alternato ad altre letture. È un libro che si legge rapidamente e abbiamo deciso quindi di fare questa collaborazione, questa lettura condivisa. Quindi oggi alle 17, oggi è martedì 30 aprile, alle 17 uscirà sia sul mio canale sia sul suo canale una recensione, una chiacchierata sui nostri punti di vista in merito a questa lettura. Quindi abbiamo letto L'invenzione di noi due. Ora, inizio a raccontarvi un po' cosa ne penso. Prima di iniziare, tisanina, anzi oggi tè al limone. Prima di iniziare vi invito sempre ad iscrivervi al canale, a lasciare commenti se avete letto questo libro. Se conoscete Matteo Bussola, quest'autore, io devo dire che è il terzo libro che leggo e se mi conoscete lo sapete l'ho scoperto da poco tempo e lo sto apprezzando. Iniziamo subito quindi questa chiacchierata. Allora, di cosa parla L'invenzione di noi due? Intanto Matteo Bussola è un autore che parla di relazioni, relazioni personali. Io ho già letto Il Rosmarino, Il Rosmarino non capisce l'inverno. Poi ho letto Il Tempo di tornare a casa e ho letto quindi anche L'invenzione di noi due. Piccola storia su questo libro, io l'ho acquistato sul libraccio l'anno scorso e ho iniziato a leggere in un periodo per me poco, ve l'ho già accennata questa cosa, avevo poca voglia di leggere e quindi tra agosto e settembre è stato uno dei libri abbandonati. Quindi avevo letto una quarantina di pagine e poi l'avevo abbandonato. Cosa è successo poi? Perché con Moni abbiamo deciso di leggerlo? Perché anche lei conosce Bussola e insieme abbiamo deciso di leggere proprio questo libro qui perché è un libro di puro intrattenimento. Quindi abbiamo deciso di leggere un qualcosa di abbastanza leggero, che poi così leggero non è, abbastanza leggero. Io per più volte sono riandata con la mente a questo libro perché mi incuriosiva a capire il matrimonio del nostro protagonista. Sì, perché è un libro che parla di matrimonio. Allora, questa è la storia di come tramutai l'amore in cenere e poi la cenere di nuovo in amore. La prima cosa fu il mio sbaglio, la seconda la mia colpa. Questo è un pezzettino tratto dal libro. E io voglio iniziare a parlare del libro leggendovi proprio l'Inchpit. È una cosa che non faccio generalmente, però è bene anche dare un po' una linfa vitale nuova al canale, fare comunque qualcosa di diverso. Quindi leggiamo. Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi. Solo allora mi venne l'idea. È triste, tragico persino, ma torniamo a occuparci delle cose quasi sempre quando sono finite. Forse la fine è l'unica condizione in grado di smuoverci davvero. Forse è solo che per risvegliare il nostro desiderio di agire abbiamo bisogno di una distanza, la sensazione di dover recuperare un'opportunità che ci appare lontanissima, perduta, irrimediabile. Allora, ho voluto leggere un po' questo Inchpit che racchiude un po' di cosa va a parlare bussola. Questa è una storia d'amore. È la storia della fine di un amore. Il nostro protagonista si chiama Milo. Ho un po' d'appunti sui nomi, perché io ho veramente con i nomi un disastro. Milo. Allora, abbiamo questo protagonista, un uomo di 46 anni, un uomo non bellissimo, non troppo alto, non troppo magro, non troppo grasso, un uomo medio, si definisce, un uomo, insomma, mi verrebbe da dire anche quasi banale, che si innamora di una donna straordinaria, di una donna bellissima. Ma come nasce questo amore? Allora, lui inizia il libro narrando, parlando della fine di questo matrimonio, di questa crisi matrimoniale acuta e forte. Poi da lì va indietro nel tempo e ci racconta che quando loro avevano 18 anni, l'anno della maturità, hanno iniziato a scriversi. E qui viene il bello. Caldo, freddo, questo periodo, l'abbassamento di voce si fa vivo nuovamente. Hanno iniziato a scriversi. Ma come? Attraverso un banco. Cioè, il banco è stato il mezzo che ha fatto comunicare Nadia, che è la moglie di Milo, e Milo, detto anche Miles, se non ricordo male. Quindi Milo. Allora, Milo cambia aula, cambia classe per diverse settimane e su questo banco trova una scritta. Chi sei? Da lì, lui inizia a scrivere chi è. Inizia a scrivere qualcosa di lui, della sua vita, e giorno dopo giorno Nadia risponde. Per lui, questa Nadia, per diversi anni, sarà il suo pallino, perché poi fisicamente non l'ha mai incontrata. Diversi anni dopo, una decina d'anni dopo, si ritrovano ad una festa. Lei, se non mi ricordo male, era la fidanzata di un amico, non era una storia troppo seria, e si trovano, in tutti i sensi, scatta la scintilla e si fidanzano. A breve si sposeranno e inizierà il loro matrimonio. Beh, la storia è intensa in quanto fa un po' avanti e indietro nel tempo, nel libro, però arriviamo al dunque. Dopo anni di matrimonio ricco d'amore, ricco di sogni, sogni anche infranti, non riusciranno ad avere figli, ma accetteranno comunque la cosa, perché loro si appartengono, si bastano. Loro lavorativamente, mi viene da dire, sono due persone, però, che hanno accettato il non avere figli, ma non hanno, dal mio punto di vista, accettato pienamente la loro insoddisfazione lavorativa. Lì, lì hanno avuto tutti e due una grossa delusione. Veniamo al punto. Allora, loro si sposano, ma lui, Milo, ha, diciamo, fatto degli studi per diventare architetto, ma non mette mai in pratica questo suo lavoro. Ci sono dei capitoli dove lui va indietro nel tempo, ci parla di sua madre, di suo fratello, del fatto che da ragazzino ha perso un braccio, è stato proprio, è caduto da un albero e perde completamente il braccio sinistro, tagliato in due da una falce, mi sembra, che aveva lasciato sull'elba il nonno e lui cadendo dall'albero perde questo arto, perde questo brazzo. Prontamente il fratello con un sacchetto, con del ghiaccio dentro, riesce a fare il recupero dell'arto, del brazzo che poi con diverse, poi tante operazioni, insomma, tornerà tutto ok. Quindi, ci racconta anche questo aneddoto doloroso della sua infanzia, ci racconta il rapporto con la madre, il rapporto con il padre assente, a un certo punto il padre non c'è più, quindi crescono da soli con la madre questi due ragazzi, il legame forte con il suo fratello completamente diverso da lui a livello proprio di caratteriale, il fratello è una persona briosa, aperta, con un matrimonio finito, con due figlie, mi sembra. Lui invece, Milo, è una persona quadrata, responsabile, senza grilli per la testa, con i piedi per terra. Quindi, con il matrimonio con Nadia, iniziato in maniera sfumeggiante, direi, loro erano leggeri, innamorati, si divertivano. Cosa accade? Accade che lui, con i piedi per terra, mette da parte i suoi sogni di diventare architetto, di lottare per questa cosa, di andare, di trasferirsi altrove, siamo in nord Italia, mi sembra vicino Verona, è ambientato se non mi ricordo male il libro. Cosa decide? Lui cambia completamente vita, lavoro, pur di avere un lavoro per portare avanti la sua famiglia con Nadia, accetta un lavoro all'interno di un ristorante, di un amico. Lui ama cucinare, è molto bravo, ama il vino, ama cucinare, ama il mondo della ristorazione e resterà a cuoco all'interno di questa osteria, di questo amico, quindi quello sarà il suo lavoro. Nadia invece completamente diversa, una donna che vive secondo me all'interno di una bolla che è la bolla della scrittura, completamente immersa in questo romanzo, completamente legata ad un'amica che purtroppo è malata di tumore, quindi legatissima a questa sua amica e completamente si dedica alla scrittura, quindi una donna che ama leggere, una donna che ama scrivere, ma anche una donna fortemente vivace, passionale, curiosa della vita. Due personalità molto diverse. Io non voglio farvi troppo spoiler, però mi va anche di narrare e raccontare cosa accade. A un certo punto del libro si comincia a vedere il distacco, la distanza che avviene tra i due protagonisti, tra Milo e Nadia. È un distacco che avviene piano piano, lei resta sveglia fino a tardi ad aspettarlo quando torna da lavoro, lui torna stanco e va a riposare, lei invece è più creativa, rimane sveglia, a quell'ora le viene più da scrivere e si immerge nel suo lavoro di scrittrice, pian piano, pian piano, piccole cose quotidiane li distanziano, anche il cercare un figlio che non viene li porta all'accettazione della cosa, ma anche lì c'è comunque un po' di distacco tra i due, freddezza tra i due, un senso un po' di insoddisfazione per la cosa, però non ne fanno un problema vero e proprio, però, pian piano, pian piano, l'insoddisfazione e torno a dire quello che dicevo prima, lavorativa di Nadia soprattutto che non riesce a portare magari a termine come vorrebbe questo suo romanzo, la porta ad essere anche distante dal marito, il marito innamorato, perso di questa donna, vive per lei, vive in funzione di lei, non fa troppo per dare una scossa al matrimonio e si lascia vivere dagli eventi, cioè è un uomo passivo, diciamo che come uomo, come personaggio maschile, lo vedo in molti uomini che questo accade, è un uomo che si è assestato, adagiato alla vita matrimoniale, non fa nulla per portare brio, allegria, gioia, direi anche sorpresa nel matrimonio, quindi questa donna, giornate tutte uguali, ripetitive, per lui è casa, sua moglie, lui è innamoratissimo, per lui il sentimento verso lei non è cambiato, a lui basta la vita che fanno, è più o meno soddisfatto, dalla descrizione che ne fa bussola mi sembra un uomo non dico mediocre, ma un uomo che si accontenta, abbassa quello che ha, invece Nadia è su un altro livello, Nadia è una donna ambiziosa, è una donna in continua ricerca, in continuo mutamento, ha sempre voglia di sperimentare, cercare, è una donna che si butta anche nelle relazioni, fa tantissimo per questa amica malata di tumore, si taglia anche completamente i capelli, non si interessa neanche del suo aspetto fisico, è una donna bellissima, ma tende sempre a camuffare questa sua bellezza perché non dà valore troppo al suo essere bella a livello estetico, ma cura molto il suo spirito, ecco, come dire, è una donna che dà molto valore a appunto la cultura, la letteratura, la ricerca continua, spasmodica, a volte del cambiamento, della crescita personale, ecco, non saprei come dire, quindi lei è una donna che all'interno di questo matrimonio c'è stata un po' stretta, lei voleva comunque avere più successo professionale e avrebbe voluto anche dei cambiamenti nel marito. Qual è il problema nella coppia? Al mio punto di vista il dialogo, non hanno mai avuto un dialogo, si sono lasciati vivere dagli eventi e questa fiamma, questa scintilla iniziale è andata piano piano a calare. Cosa accade? Milo lì ha l'intuizione, ha l'intuizione di dire beh, dato che lei ama la scrittura, cerchiamo di sorprenderla, quindi si illumina perché ritorna tra i banchi di scuola, ritrova il vecchio loro banco, si illumina e inizia a mandare un'email per sbaglio. Lui si fa passare per un altro uomo, quindi da Milo si firma Antonio e inizia a scrivere della sua crisi matrimoniale scrivendo a sua moglie, Angela, mi sembra, non mi ricordo il nome, facendo finta di aver sbagliato casella postale. Quindi cosa accade? Che Nadia inizia a ricevere la mail, è la prima mail errata di questo Antonio. Da qui inizia lo scambio epistolare, lo scambio di lettere, chiamiamole lettere ma sono mail, lo scambio di queste mail tra Milo e Nadia, ma Nadia sa che è Antonio. Ora io al finale non ve lo voglio svelare, dovete leggerlo il libro perché poi altrimenti è spoiler. Inizia questo scambio di lettere dove il nostro protagonista Milo barra Antonio inizia a raccontare la sua come dire frustrazione nel matrimonio il suo amare tantissimo questa moglie questa donna che però lo ha lasciato quindi nelle lettere Milo racconta del suo matrimonio finito quindi Milo inventa che Antonio è separato e racconta di questa sua casa vuota piena di scatoloni che sua moglie lo ha lasciato. Dall'altra parte Nadia è apertissima ha lo scambio di mail con Antonio e anche lei inizia ad aprirsi inizia a narrare inizia a raccontare cosa le manca nel suo di matrimonio quindi che cosa abbiamo? Abbiamo Milo barra Antonio che comincia ad assorbire e a percepire dove lui ha sbagliato nel matrimonio con la moglie. Ora io non vado troppo oltre perché poi farei spoiler ma c'è un cambiamento non vi dico quale all'interno del matrimonio di Milo e Nadia dovuto proprio al dialogo che avviene in maniera falsa se vogliamo in maniera giocosa ma con l'inganno da parte di Milo perché si fa passare per questo Antonio e su chi assorbe tutte le informazioni che sua moglie dà. Ora lascio a voi sapere come va a finire poi il libro. A me è piaciuto è stata una lettura sicuramente gradevole leggera è un autore che sa andare al succo nel senso non ci gira troppo intorno quando lui scrive dei libri mi piace che comunque sì è vero cioè comunque fa delle descrizioni accurate si perde nel descrivere nel dettaglio cosa sentono cosa provano i suoi personaggi diciamo che li arricchisce molto però va al nocciolo della questione cioè non è un autore che ti lascia insoddisfatto quando chiudi libri di bussola almeno io ho la mia soddisfazione ho il mio libro sottolineato e ho il mio gusto del fatto del fatto che questo autore ha scavato bene all'interno in questo caso di un matrimonio di un rapporto uomo e donna di un rapporto che sta finendo di come poter riaccendere o meno la fiamma di un matrimonio parla del quotidiano parla dei rapporti relazionali e quindi penso che è un autore che può piacere a un vasto pubblico perché parla di noi parla di tutti noi e parla di relazioni che tutti noi abbiamo convivenza matrimonio insomma che tutti noi più o meno abbiamo quindi parla del vissuto quotidiano mi piace poi come scrive sa scrivere bene sa coinvolgere il lettore ti sa tenere incollato alle pagine quindi è un libro che sicuramente io vi consiglio se volete appunto una lettura veloce da fare ma che poi vi lascia qualcosa quello che posso dire è che questi personaggi sono molto nitidi molto realistici mi è sembrato come di conoscerli e non è la sensazione che ho avuto solo leggendo questo libro anche gli altri libri di bussola sono curati ecco sono dei libri che secondo me sono curati nel dettaglio nella ricerca delle parole dei termini da utilizzare nel linguaggio sono curati nel modo di trasmettere quello che vuole trasmettere arriva e anche nella descrizione dei personaggi quindi se volete una lettura si leggera ma che vi lascia qualcosa di intenso bussola può fare al caso vostro io continuerò piano piano a leggere tutti i libri scritti da quest'autore ne ho ordinato uno qualche giorno fa infatti ci sarà anche in questo mese di maggio anche un video book haul oggi è 30 aprile quindi da domani maggio ci sarà un video prossimo book haul e vi lascio quindi con come finirà il matrimonio tra Nadia e Milo barra Antonio intrigante anche il finale davvero intrigante questa lettura condivisa con Monia a me è piaciuta non vedo l'ora di andare a sentire a vedere il suo video quindi dopo vi lascio sotto anche il suo canale così potrete andare a vedere anche il suo video Monia Hobbit di biblioteca io vi mando un bacione davvero grandissimo noi ci vediamo prestissimo per un nuovo video lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa pensate di bussola se avete letto qualcosa se vi piace se vi va di leggere questo libro che ne sono molto curiosa e se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale ci vediamo prestissimo per un nuovo video